La linea decorativa Tattoo permette di realizzare una grande varietà di effetti unici e innovativi, con una facilità di applicazione mai vista prima, riducendo il numero dei passaggi e il tempo di lavorazione. Oxid è un innovativo rivestimento ferro micaceo per pareti, che permette di realizzare una moltitudine di effetti materici, come l'acciaio patinato, la ruggine e un'ampia varietà di superfici a rilievo, lavorabili con facilità utilizzando gli strumenti della linea Tattoo. Andremo ora a decorare una parete con la finitura ferro micacea Oxid. Ci occorreranno i prodotti impronte Mid e Oxid, il rullo impronte, il pennello Karma o il pennello Starlight, la spatola Flex. Preparare il supporto applicando impronte Mid a rullo. Dopo la completa essicazione del fondo, applichiamo Oxid con il rullo impronte e con il pennello Karma. O con il pennello Starlight, a prodotto ancora fresco, ripassiamo delicatamente sulla superficie con la spatola Flex per ottenere l'effetto finale. Per un risultato ottimale si consiglia l'applicazione di due mani di finitura. Ed ecco il risultato finito. Il rivestimento ferro micaceo Oxid è uno degli innovativi effetti Tattoo, utilizzabile in molti modi, per effetti creativi sempre diversi e originali. Tattoo. Creatività all'infinito.